ciao a tutte ragazze e benvenuti a questo mio nuovo video come avete letto dal titolo questo video stesso è dedicato alla mia body care ovviamente di questo periodo e allora vi farò vedere qua i bagno doccia che sto utilizzando gli scrub e vari vari oli e cremine che appunto utilizzo per il corpo scusate ma sto girando da ormai due ore vari video visto che sono libera dal lavoro e quando lavoro purtroppo non ho davvero tempo di girare video quindi diciamo che quando sono libera mi dedico al girare dei video per poi presentarveli durante la settimana in modo appunto da non lasciare il canale senza contenuti comunque piccola parentesi iniziamo subito con i prodotti che sto appunto utilizzando per il corpo vi faccio subito vedere due bagno doccia che sicuramente vedrete nei prodotti finiti di questo mese e sono questi due questo qua ve l'ho presentato già nel video dei top flop sto parlando del bagno doccia dell'imperial later calmante alla fiori di jasmine alla vaniglia è un bagno doccia molto 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 buono è una crema e coccoloso fa tantissima schiuma la profumazione predominante è quella del dei fiori fiorita però devo dirvi la verità è molto smorzata dalla nota dolce della vaniglia non mi va a seccare la pelle davvero un buon prodotto da supermercato costa pochissimo quest'altro invece un prodotto che come potete vedere è quasi finito anche completamente diverso quello è una consistenza in crema questa invece una consistenza in gel fa tantissima schiuma anche questo è questo qua ha un inci molto molto buono rispetto a quell'altro questo l'ho comprato da holland e barrett appunto un negozio che vende praticamente prodotti con estratti naturali alcuni anche certificati questo qua ha tantissimi estratti naturali e vegano e cruelty free ed è uno shower gel appunto alla al pompelme all'arancia questo bagno doccia è molto buono molto rinfrescante la profumazione agrumata si sente moltissimo la nota amara del pompelmo e mi piace tantissimo davvero fa come vi dicevo tantissima schiuma non secca la pelle ed è stato davvero un bagno doccia ottimo da utilizzare nel periodo diciamo trascorso che era un periodo un po più caldo rispetto all'usuale perché appunto aveva questa nota fresca ma non effetto freddo dava proprio l'idea di rilassarti di rinfrescarti la pelle davvero un buonissimo prodotto questo erano 400 ml è costato pochissimo sui tre pound circa potrei comprarlo ne esistono di varie profumazioni tra l'altro ho comprato anche la profumazione all'anguria che ho mandato a caterina e spero che lei la prova presto per farmi poi sapere perché se la profumazione c'è questa profumazione qua di arancia e pompelmo è veritiera quindi spero che anche quella all'anguria sia veritiera perché sarebbe buonissimo è un altro prodotto che sto utilizzando in mini taglia e questo gel doccia al bergamotto della kiwi allora ragazze questo prodotto un po strano perché in realtà non è un non è un gel un gel detergente ma è una crema detergente ora io non so se riuscite a vederle non voglio far danni però è una crema bianca molto 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 fluida eccola qua vedete è una crema in realtà molto fluida che fa abbastanza schiuma però fa una schiuma molto delicata molto molto soffice quindi non è quella schiuma molto molto potente pulisce molto bene il corpo per quanto riguarda la profumazione l'ho trovata abbastanza neutra non ho sentito tanto questa componente diciamo fresca e agrumata del bergamotto onestamente devo dirvi che a livello di profumazione non mi ha entusiasmato non è una brutta profumazione ma non è neanche di bergamotto poi la consistenza non è uno shower gel ragazze non ha la consistenza di un gel a me sembra una crema molto fluida davvero non so se riuscite ecco magari è così ecco la consistenza è questa qua non è un gel è una sembra una una cremina quasi non saprei come come spiegarvi quindi onestamente ragazze non non mi ha entusiasmato non ho tanto capito questo prodotto ovviamente è un uno shower gel pulisce fa abbastanza schiuma però da qui a dirvi lo compro in taglia grande no quindi questo qua lo finirò avrò un applicazione soltanto e poi saranno i prodotti finiti sto poi infine utilizzando sotto la doccia questa questa qua è la silk mousse della nivea questa qua è nella fragranza classica io in passato anche provato quella lì alla ma all'olio di mandorle è buona cos'è questa qua è una mousse quindi si deve scuotere l'erogatore è proprio quello della della schiuma da barba ed esce proprio una mousse molto 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 e soffice cosa faccio con questa è in realtà volendo ha un potere lavante in teoria si dovrebbe mettere come con una crema dopo la doccia quindi a pelle ancora umida spalmare queste poi risciacquare io come la utilizzo vi dicevo come schiuma da barba non schiuma da barba sulla schiuma da depilazione quindi ovviamente quando devo depilare le gambe o le ascelle utilizzo bagno appunto la zona metto questa e poi va il rasoio va che è una meraviglia e non mi taglio la pelle appunto poi mi resta non mi si irrita tanto quindi la utilizzo in questo modo è molto molto buone poi la profumazione quella classica d'av che mi piace tantissimo ultimo prodotto random è il detergente intimo del momento ve ne avevo già parlato credo in un top e flop di qualche mese fa e ancora qua il gel detergente delicato intimo alla bardana della biolis nature 98 per cento di origine naturale come sapete se vi ricordate non mi piace per niente questo prodotto non lo utilizzo sempre perché come vedete ora non è che tutto pieno sarò arrivata a metà si poco più di metà però non mi piace per niente in questo periodo che appunto ho avuto il il periodo famoso periodo non l'ho utilizzato perché assolutamente non mi sento pulita con in quel periodo utilizzando questo prodotto è estremamente delicato dovevano inserire nella dicitura non delicato e basta io lo consiglio a una una ragazza giovane magari a una bambina le cose di una bambina penso sia molto molto indicato in quanto appunto è estremamente delicato la profumazione si sente ma è leggerissima non non si sente per niente la bardana è proprio delicata la profumazione ed è stra delicato appunto come vi dicevo anche l'effetto per me che ho già altre esigenze non è un detergente intimo adatto ho preso io 100 ml di prodotto tra l'altro una una consistenza liquidissima se voi praticamente aprite il tappo e mettete il prodotto in questo modo vi esce giù tutto quindi dovete stare attentissime altrimenti fate uno spreco di quello allucinante ne basta poco fa schiuma sì però non mi piace proprio il potere lavante ragazze lo trovo molto poco adatto a me faccio vedere i scrub del momento sto ancora utilizzando l'alchemilla il choco scrub questo qua ragazze lo sto centellinando perché mi piace tantissimo cerco di utilizzarlo il meno possibile pochissimo in modo che mi duri di più è uno scrub molto buono devo dire che anche abbastanza strong è in pasta vi faccio vedere un po ecco è in pasta questa pasta qui che è fittissima di granelli la profumazione è cioccolatosa quindi davvero un ottimo prodotto sono 250 ml certificato ai ab costicchia per essere uno scrub però devo dire 250 ml questa consistenza così in crema ne basta poca quindi devo dire che il costo si ammortizza abbastanza una buona una buona scrabbatura direi che è insieme a lo scrub di dottor organi e dottor organi studiate organic shop solo che quello dell'organi show e organic shop ha una consistenza all'interno diciamo i granelli sono all'interno di una consistenza molto molto diversa mentre questo è all'interno di una pasta la differenza diciamo si sente però a livello di scrabbatura questo qua sta un pelino più giù rispetto agli scrub della dottor organi della organic shop mi sono fissata con la dottor organi che ragazze con l'organic shop buono ricomprarlo non saprei preferisco magari di più l'efficacia di un organic shop che costa pochissimo rispetto che questo che costa molto di più con un'efficacia leggermente minore organic shop ovviamente si parla del scrub al caffè allo zucchero quasi finito come vedete mi piace come vi piacciono tutti quanti gli scrub dell'organic shop in questo caso però la profumazione non mi piace per niente perché un mix tra caffè ma ci sento anche moltissimo una componente tipo liquirizia e io ragazze odio la liquirizia quindi non mi piace per niente la profumazione lo utilizzo infatti ad esempio sulla schiena perché ha un potere scrabbante molto forte è come mi piace a me quindi lo utilizzo la però ovviamente va via poi perlomeno io utilizzo il bagno doccio ovviamente dopo quindi non lo sento più l'odore però non è proprio piacevole sparmarmi soprattutto diciamo la zona del decolleté della pancia eccetera proprio per il profumo quindi non mi piace scrub che invece utilizzo praticamente tutti i giorni è questo qua della io eco mono team al carciofo questo scrub corpo me l'ha regalato caterina è uno scrub diverso dagli altri ha una consistenza come vedete gelatinosa budinosa ora non voglio far danni ed è fittissimo come potete vedere di granelli granelli che però all'interno di questa gelatina non fanno un grande scrub per questo io lo chiamerei peeling questo qua decisamente non è uno scrub ragazzi è un peeling tanto che si può fare come vi dicevo tutti quanti i giorni molto delicato profumo spettacolare come tutta quanta la linea al carciofo e anche quella al cetriolo della stessa linea della stessa marca scusate ottimo davvero secondo me però appunto hanno sbagliato un po' la dicitura scrub corpo perché secondo me è proprio un peeling è davvero molto 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 blando vi lascia la pelle leggermente più liscia e ho notato che ha anche si trasforma in fa una schiumetta quindi in teoria anche secondo me è un potere leggermente lavante se magari col caldo fate tante docce volete un attimino un'esfoliazione leggera sotto la doccia questo qua che fa anche un leggerissimo una leggerissima schiumetta lavante può essere la soluzione non in una doccia diciamo principale ma magari in quelle docce solo per infrescarvi quindi secondo me è un buon prodotto vi faccio poi vedere dei prodottini che sto utilizzando per il post doccia allora questo qua è l'aloe gel con anche arricchito con t3 e arnica ve lo faccio vedere perché è un prodotto che sto utilizzando molto sulle cosce dove ho diciamo delle irritazioni o del prurito non so dovuto a cosa magari all'alimentazione un po' sballatina e sto utilizzando questo che ha una componente sia lenitiva data dall'aloe ma anche antibatterica e purificante dato dal t3 quindi sto trovando un ottimo prodotto dottor organic certificato bioactive molto buono poi dopo la doccia cosa faccio? vado ad utilizzare delle creme la crema principale che sto andando ad utilizzare è questa qua crema fluida corpo aliris florentina della Omia di questo prodotto ho anche provato il bagno doccia buonissimo ragazze la crema non è per niente da meno è una crema che si va ad assorbire anche abbastanza velocemente io sono arrivata a meno di metà conto di finirla a fine mese è molto buona la profumazione è spaziale ragazze è un iris talcata molto proprio a me sembra proprio la profumazione di talco fiorito è davvero fantastica si assorbe abbastanza velocemente anche se io non faccio tanto caso a lescia e bianca ragazze perché a me piace moltissimo stare a massaggiare la crema ovviamente è un prodotto erboristico non è biologico però non ci sono le maggiori schifezze è molto buona ragazze veramente dà una normale idratazione non vi lascio idratate tutto il giorno però è ottima una crema che sto utilizzando per i piedi ma che purtroppo non sono costante ragazze con le creme piedi è questa qua della Yves Rocher che in realtà appunto è una normale crema per il corpo ma io non lo utilizzo perché non ci sono soltanto siliconi coloranti e parabeni ma ci sono i siliconi c'è il dimeticone qui quindi non lo utilizzo sul corpo la sto appunto utilizzando sui piedi è all'aloe ragazze una blandissima idratazione fittizia quindi diciamo io l'ho presa con un set così dove mi interessava provare uno scrub mi sembra uno scrub corpo sì però questa qua ovviamente non la comprirei mai in full size poi vi parlo di un altro prodotto che utilizzo ogni tanto su tutto quanto il corpo e sul viso ed è questo qua il gel illuminante al neroli e immortel appunto di di phb è molto 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 buona ragazze è davvero ottima scusate ragazze vi stavo parlando di questo prodotto qua della phb il gel illuminante al neroli e immortel lo sto utilizzando sul corpo ma anche sul viso purtroppo sul viso non posso utilizzarlo sempre perché essendo che l'aloe è al secondo posto se non al primo fatemi vedere al secondo dopo l'acqua almeno l'aloe è a lungo andare diciamo un effetto un utilizzo prolungato mi comporta vari sfoghi sul viso proprio a livello di brufoli e rossori quindi purtroppo non posso utilizzarlo in modo prolungato sul viso ma sul corpo lo utilizzo mi piace molto lo trovo che abbia un effetto un po' compattante all'inizio è un pochino appiccicoso però questa patina va via dopo veramente un minuto mi piace molto utilizzarlo è un prodotto che veramente fa tutto idrata compatta mi piace davvero davvero tanto ultimi due prodotti sono due oli due oli due oli molto diversi fra di loro il primo è questo qua della CN ed è l'olio anticellulite alla betulla molto buono mi piace perché ha un buon profumo ha un effetto molto compattante sulla pelle io lo utilizzo sulle cosce i glutei i fianchi e la pancia mi piace tantissimo vi dicevo mi piace la profumazione ha un effetto compattante il pack mi piace meno innanzitutto è in vetro quindi bisogna stare attentissime quando si allenano le mani unte e poi io purtroppo ho trovato una confezione credo fallata perché come potete vedere il push dosatore non mi funziona quindi io devo andare a svitare ogni volta e prelevare il prodotto direttamente dal diciamo dal dall'erogatore qui dal dal buchi dal buco direttamente sulla mano perché appunto l'erogatore la pompetta non funziona per il resto però davvero è un ottimo prodotto sono mi sembra 100 ml di prodotto che costa pochissimo ed è davvero davvero fantastico ultimo prodotto è quest'olio che è infinito ragazzi devo anche essere onesta che mi sto concentrando più sullo smaltimento della crema rispetto che degli oli al momento a parte quello alla betulla e quindi questo qua è rimasto un po' indietro come potete vedere ed è l'olio corpo all'olio di jojoba di Omia mi piace molto quest'olio la profumazione è buonissima mi piace perché non unge tantissimo mi va a nutrire la pelle in ottimo modo non sento poi la necessità anche arrivata a sera di mettere altro è un ottimo prodotto il pack è comodissimo sono 100 ml è in plastica quindi in plastica rigida quindi alla fine è molto molto comodo da tenere diciamo a zero pericolo che si rompa quindi questo qua è molto buono e niente ragazze vi ho fatto vedere in generale tutta quanta la mia body care del periodo spero che abbiate trovato dei prodottini interessanti e noi ci vediamo al prossimo video ciao